Consigli fantacalcio giornata numero 13. Questa è una giornata molto importante perché da qui praticamente ci siamo fatti fuori un terzo del campionato per cui tante cose sono già delineate. C'è stata la pausa nazionale e quindi abbiamo avuto qualche infortunio, qualche giocatore che mancherà solo per questa partita e qualche giocatore che purtroppo mancherà per un periodo più lungo. Se stai cercando un'app che ti aiuti a schierare la formazione al meglio perché per questa giornata è importantissimo non sbagliare ti consiglio Fanta Algoritmo. Fanta Algoritmo è un'app fantastica perché giornata per giornata ti dice di andare a schierare della tua squadra con tutti gli indici di schierabilità della tua formazione, ti fa la formazione quindi scaricati Fanta Algoritmo. Tra l'altro Fanta Algoritmo è tutto gratis, poi ci sono delle funzioni premium che puoi andare a sbloccare utilizzando il codice sconto Fanta Gol 20 e risparmierai il 20% su tutto. Per fortuna questa giornata parte sabato alle ore 15, dico per fortuna perché abbiamo più tempo per prepararci e c'è anche più tempo nella speranza che ritorni qualcuno, vedi tipo Zaccani ma non credo. Mi raccomando non perderti le mie live, la prima sarà oggi mercoledì alle ore 16.45 su Stadeo, link in descrizione, Stadeo è fighissimo perché è gratis e ci parliamo a voce. Poi ci saranno altre live venerdì anche lì su Stadeo dalle 16.45 e altre che annuncerò. Salernitano a Laffio quindi alle 14 sapremo chi giocherà per cui ci toglieremo il dubbio se Candreva sarà titolare o meno. Io credo che tornerà ad essere titolare e da ex io Candreva lo metterei se fosse titolare. Poi ovviamente si mette Dia commessa i quei mesi, ormai Zaghi l'ha lanciato e io proverei a schierarlo ancora. Altro giocatore che si può schierare volendo è Koulibaly. Ogni tanto ha la botta da fuori e Koulibaly a volte ci dà quei più tre che nessuno si aspettava. Non metterei invece ovviamente Costil che anche qua c'è l'infortunio di Ochoa. Non metto Mazzocchi, da quell'atto c'è Felipe Anderson per cui potrebbe risentirne Mazzocchi. Il resto è tutto abbastanza schierabile. Nella Laffio con Zaccagni out spazio a Pedro e Pedro per me si mette oggi assolutamente insieme a Immobile e Felipe Anderson. Occhio che manca anche Luiz Alberto nella Laffio per squalifica. Quindi veramente potrebbero giocare Kamada e Guendonzi insieme. Nel caso scommessa Kamada per me ci starebbe tantissimo. Poi proverei Marusic. L'unico qui che non metterei è Patrick perché secondo me è rischio giallo. Atalanta-Napoli. Nell'Atalanta io provo a andarmi a schierare Pasalic, Lukman, Scamacca e Kubmele. Proverei anche Ederson visto il momento buono della sua carriera. Disconsigliati sinceramente non ho nessuno. Nel Napoli probabilmente Mazzari continuerà con il 4-3-3. Bisogna vedere se gli interpreti saranno proprio questi. Ad ogni modo io metto tutti e tre questi giocatori anche se il mio dubbio è che qui non possiamo andare a ritrovare Simeone. Però oggi andarlo a mettere sarebbe proprio un azzaro diciamo. Probabilmente lo troverai infatti nei miei azzari di giornata su Insta. Proviamo a rimettere Veliski che secondo me sarà un po' più offensivo rispetto a prima. E il buon Di Lorenzo. Anche qui sconsigliati non ne ho. Se vuoi fare un Fanta Calcio con me scarica subito Fanta Eleven. Vai al link in descrizione poi iscriviti alla Lega iscritti Fanta Gold se vuoi fare un Fanta gratuito sulla Serie A. O Fanta Gold Champions se vuoi fare il Fanta sulla Champions League. Nei miei Fanta si può vincere una maglietta di Serie A ma se sei ancora più ambifioso prova il Fanta Calcio Premium di Fanta Eleven. Iscrivere una squadra costa 19,90 ma puoi usare il codice sconto Fanta Gold che ti fa risparmiare il 20%. Quindi spenderai meno di 16 euro. Guarda i premi c'è una iMac, bici elettriche, la maglietta di Mbappé. Poi abbiamo televisioni, smartwatch, maglie da calcio, borsoni, felpe, tablet, un sacco di roba. Scalicati Fanta Eleven, link in descrizione. Milan Fiorentina. Nel Milan noi abbiamo Giroud squalificato per un paio di giornate. Qui ha Okafor con Jovic e Pulisic. Ora, col fatto che Leao è infortunato e Giroud è squalificato, loro ti propongono Pulisic con Jovic e Okafor. Io ho l'idea che alla fine ci ritroveremo con Okafor punta. Pulisic spostato di qua a sinistra e qui Chukwev. Quindi Chukwev te lo indico già come scommessa. Pulisic si mette, si mette anche Okafor. Jovic è quella scommessina, nel senso che Jovic è un ex. Quindi si potrebbe anche tentare come proprio scommessa in extremis. Però fin qui non ha combinato praticamente niente. Proviamo Theo Hernandez, Reinders e ti direi anche Tomori. Nella Fiorentina mettiamo Jack Buonaventura, altro ex. Proviamo Nzola. Nzola te lo indico come scommessa, io credo che sarà lui il titolare. Provo anche Biraghi, Duncan e ti dico ovviamente Nico González. Nico González che è il miglior giocatore presente adesso su Starks. Su Starks compri e vendi i token dei giocatori, tutti ufficiali ed in licenza. Aspetta che domani vanno a listare buongiorno. Inoltre su Stadeo c'è anche un gioco dove puoi andare a vincere tantissimi ricchi premi. Schierando 5 giocatori per ogni giornata. Se vuoi sapere di più come funziona, guarda il link tutorial che c'è in bio. Dai un'occhiata ai premi del Fantastarks. Noi abbiamo un iMac, motorini, iPhone, PlayStation 5, altre moto, computer e anche buoni, oltre anche biglietti per le partite di Europa League. E buoni Amazon. Entra su Starks, passando al link in descrizione avrai per te in omaggio 15 euro al tuo primo deposito. Primo deposito che deve essere almeno di 20 euro. Cagliari in Monza, nel Cagliari fiducia all'Ufumbo, mettiamo sempre Zappa e scommesse Petagna e Viola. Petagna tra l'altro ex. Nel Monza invece andiamo ovviamente con Colpani, Colombo, Pessina. Se giocasse veramente in questa posizione sarebbe devastante da mettere assolutamente. Poi ti dico Chiracopoulos e Ciurria. In realtà in questo Monza puoi andare praticamente in all-in. Anzi, io scambio Ciurria con Di Gregorio che probabilmente è il partire top in questa giornata. Empoli, Sassuolo. Nell'Empoli, caputo da Exi, io lo schiero. Poi provo a mettere Cambiaghi. Voglio andare anche come scommesse Ranocchia e Fazzini. Qui ti indica Cacaci titolare oggi potrebbe anche esserci Bastoni. C'è però da dire che è dal lato di Berardi per cui non metto nessuno dei due. Nel Sassuolo, Mimo Berardi, Pinamonti, Ex. Cassieco, questo va messo. Secondo me Cassieco in questa posizione può rendere veramente tantissimo e sta spodestando Bairami. Provo a mettere anche Laurentè, si sa mai. E visto che tende Odia 5, ovviamente Torsfeld. Però nel Sassuolo puoi andare in Olin. Frosinone Genoa. Nel Frosinone andiamo con Reiner, Puni, ovviamente sulle Marchizza, anche lui su Starks. Poi Reparto Scommesse, Braimovic e volendo Oiono. Nel Genoa Malinowski va messo. Adesso manca Gudmundsson. Però bisogna capire chi sarà l'attaccante titolare. Perché ovviamente Reteghi c'è anche se non è al 100%. Qui ti va a indicare Puskas. Io tra i due proverei Reteghi perché magari da qui a domenica si va a recuperare. Poi mettiamo Frendrum e ti dico Sabelli. Come scommessa Sabelli non è il super consigliato. Roma Udinese. Nella Roma. Lukaku, Di Vala si mettono ovviamente. Andiamo anche con Pellerini sperando che possa tornare al bono. Pina Zola. E oggi vorrei provare a mettere su Mancini. Nell'Udinese. Pereira va messo. Mettiamo anche Lovic, Samadvic. Proverai anche Ebosele e Sacces. Non schiererei Silvestri e nemmeno Cabasele e Perez. Bijol è il più schierabile di questa difesa. Juventus-Inter. Derby d'Italia. Big match di giornata. Big match che però vedrà assente qualche protagonista. Nella Juventus infatti è in ballottaggio Vlaovic. Io credo che alla fine recuperi e che l'attacco sia chiesa Vlaovic. Però è sempre in dubbio Vlaovic per quanto giocherà per il rendimento che possa avere. Mettiamo Cambiaso che ormai dovrebbe essere titolare in questa posizione. McKinney, Kostic. Oggi proverei a scommessa perché diciamo che non ha reso tanto fin qua Rabiot. Nell'Inter questo duo Turam-Lautaro si mette. Si mettono anche Dumfries, Di Marco e entrambi. E poi proverei il solito buon Cialanoglu. Come scommessa speriamo sempre in un frattesi come rientro dalla panca e che possa andare a darci un bonus. Verona-Lecce. Qui mettiamo Lavrovic-Doig. Provo anche Foloruscio. Scommesse Duda-Bonazzoli. Occhio che il Lecce è bello chiuso dietro. Nel Lecce Kostovic-Strefezza. Rafia-Baschirotto. E scommessa Dorgo. Bologna-Torino. Nel Bologna andiamo con Orsolini, Ferguson, Virkve. Tutti e tre estremamente in forma. Kristiansen che vedrai che sarà di nuovo titolare. E provo Posh. Posh nella speranza che torni a bollare. Nel Bologna puoi andare quasi in all-in in realtà. Anche perché anche Beukema può essere interessante per un fattore modificatore. Diciamo che di giocatori buoni oggi nel Bologna ce ne sono diversi. Nel Torino andiamo con Vlasic, Zapata, Sanabria, Bellanova e Scommessina Ili. Ci sconsiglio Rodriguez perché anche se è un giocatore molto pulito è dal lato di Orsolini e secondo me potrebbe andare a prendere un brutto voto. Questi erano i miei consigli per la tua formazione al fantacalcio. Io sono Michele e ti aiuto a vincere il fantacalcio. Ti aiuto a schierare la formazione ogni giornata per cui iscriviti al mio canale. Se ti è piaciuto questo video lascia un bel like e porta fortuna per me e per il tuo fantacalcio. Mi raccomando vieni in tutte le mie varie live se vuoi un consiglio direttamente da me. Ciao e buon fanta a tutti.